cos'è un granchio piccolo piccolissimo lo riportiamo in acqua lascia ecco ti sta mangiando molto carino cosa dici dove andiamo al mare oggi sei contenta tantissimo sì sì bene ci vediamo dopo ci svegliamo presto per andare al mare 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 adesso metto via mamma non mi pioggia ma ragazzi eccoci viaggia dove siamo? Porto? Santa Margherita che bello lasciala che bello stavo bellissimo poi tra poco andiamo in acqua la santa è morbidissima morbidissimo intanto facciamo colazione appena arrivai adesso si si come al solito i sette e dieci e i suoi nuovi percorso ok ciao grazie comincia la gente no ci vuole caffè no abbiamo già pane no 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 la mia Quattro? Grazie a tutti. Un po' di molettine dopo, per la doccia. Ah no, bisogna mettere i gettoni, vero? No, vorrei questo. Oh, schiuma. Possiamo andare? Già, è dopo, ancora presto. Intanto, state lì. È diventato robusto? È diventato robusto? Eh. Mattia. Eh, si vede. Si vede. Buono? Brioche. Un pochino. Buono? saluta oh eccoci qua oddio è bassa bassa maria e dopo venirei che sale bassissima allora ecco siamo qui la nostra prima prima volta no primo giorno dell'estate 2020 molto bello eccoci qua eccoci qua eccoci qua c'è tutto è più fresco? mamma io lo faccio va bene, andiamo a cercare il gioco buttati buttati vai da papà vai da papà è bello che non c'è